Poi Sanvensan, quarta tappa di Coppa del Mondo, siamo alle prova di ricognizione, stanno arrivando Michi Boscacci e Robert Antognoli. Ragazzi, una cosa che mi sono sempre chiesto, chi è più veloce nel cambio pelli? Ma senza dubbio Robert. Robert? Fermi un attimo, anche il Bosco non è mica lento. Beh, abbiamo solo un modo per saperlo, la facciamo fuori? Via! Via! Davanti Robert! Davanti Dino Scì! Bravo Robert, hai vinto sul campo, strameritato, ma come ti alleni per essere così veloce nei cambi pelli? Sicuramente non c'è nessun segreto, basta essere assidui nel fare i cambi e magari andare ad allenarsi con qualche giovane più veloce di me, quindi tutto questione di allenamento e mettersi lì a farli. Michi, tu come non ti alleni per non essere così veloce? Ma io non mi alleno a far cambi, mi alleno in salita e basta. Vabbè, però domani vi vogliamo veloci ai cambi e giù a bomba in discesa. Voi ragazzi continuate a seguire gli azzurri e a tifare Italia.